Pescarese di Loreto Aprutino, Romeo Panzone è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Teramo. Ho trovato un buon ambiente, innanzitutto una buonissima accoglienza, diciamo un abruzzese che è tornato in Abruzzo, che ha la possibilità di contribuire, di far crescere questa sede, questo comando, in maniera ancora più grande di quello che hanno già mostrato nel corso degli anni. Progetti futuri per Teramo, da dove inizierà? Ho intenzione di aumentare un pochino la struttura interna, appunto con uno spazio dove si avrà la possibilità di avere delle conferenze, dei convegni o comunque un minimo di attività sportiva che il Vigile del Fuoco potrà effettuare. Nell'ambito della provincia ho intenzione anche di aumentare, diciamo così, l'operatività del distaccamento di Roseto con una ristrutturazione della struttura e mi auguro anche con il potenziamento del nostro nucleo sommozzatori. Sabato prossimo la caserma dei Vigili Teramani, ospitata nell'ex caserma grue, sarà ufficialmente inaugurata dal sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, Gian Piero Bocci. Ho l'onore e l'onere, diciamo così, di ricevere queste personalità e quindi di mostrare il valore del comando di Teramo in occasione di questa inaugurazione. Ovviamente un grazie, un grazie soprattutto a tutti i comandanti che mi hanno preceduto e che comunque hanno messo del loro, chi più chi meno, nella realizzazione di questa nuova sede. Ma a tal proposta vorrei dire invece un grazie veramente grande al personale di Teramo che nonostante, diciamo così, le condizioni particolarmente, vi posso assicurare, particolarmente disagiate della precedente sede, hanno continuato e hanno garantito quel soccorso e quella vicinanza ai cittadini, peraltro anche in un momento, diciamo, durante il periodo del terremoto, veramente molto critiche. Quindi veramente grazie al personale di Teramo.